Come mai i Lorna Shore sono famosi e tu no? Lo scopriamo in questo video. Andremo ad analizzare questa assurda band metal moderna e andremo a ricavarci tre scelte molto intelligenti che hanno fatto di marketing che hanno permesso loro di farsi conoscere a livello mondiale e così tanto pur facendo un genere che non è assolutamente mainstream. Eppure ce l'hanno fatta. Quindi andremo a vedere questi tre consigli qua in modo che possa applicarli anche tu al tuo progetto e cercare di farlo conoscere un po' di più. Prima di iniziare mi presento. Ciao guerrieri, io mi chiamo Red Sky, sono musicista e ho un'agenzia di marketing che si chiama Ronin con cui insegniamo agli artisti tutte queste cose che si possono riassumere in costruire una fanbase di veri fan in 5 minuti al giorno. Quindi dedicando ai contenuti solo pochissimo tempo e senza perdere la dignità. Se l'argomento ti interessa e vuoi cominciare appunto a capire come funzionano un po' queste cose e cominciare ad applicarle al tuo progetto in descrizione trovi un mini corso gratuito dura 48 minuti, ti spiega un sacco di cose e diventi Super Saiyan. Detto questo, cominciamo. Allora, per chi non li conosce i Lorna Shore sono una band metal molto estrema non so bene come definire il loro genere perché direi metal moderno ma non credo rientri in qualcosa di preciso comunque sono dei mostri sostanzialmente in tutti i sensi perché hanno delle canzoni molto estreme anche se in realtà in alcuni momenti anche molto melodiche quindi sono molto fighi, molto moderni e sono molto conosciuti per un motivo che poi è il punto numero uno. Quindi vediamo subito queste tre scelte di marketing intelligenti che ne hanno permesso la diffusione. Allora, il primo punto è sicuramente la voce del cantante diciamo i Lorna Shore sono conosciuti perché hanno questo cantante che ha una voce disumana nel senso che riesce a fare dei growl ultra bassi degli scream ultra alti e in più usa queste tecniche di canto estremo in un modo a dir poco versatile cioè in generale gli altri cantanti hanno un growl, due lui ne ha tipo 28 ha mille modi diversi di usare la sua voce ed è assurdo è quello che nel marketing si chiama mucca viola cioè riuscire a distinguersi da tutti gli altri l'essere in qualche modo strano in modo tale da attirare l'attenzione e quindi crescere perché poi tutto dipende dall'avere l'attenzione delle persone nel bene o nel male quindi in questo caso ciò che è stato trasformato in mucca viola ciò che è la mucca viola è la capacità artistica del cantante cioè hai un cantante che ha queste incredibili doti e lui è riuscito diciamo a esplicitarle a utilizzarle in un modo così estremo che tu non puoi non prestare attenzione e non parlarne e infatti quando si parla dei Lorna Shore ovviamente a meno che tu sia un super mega fan della band ma in generale si parla della band per vedere il cantante che cazzo ha fatto stavolta quando girano i meme o girano gli estrattini su Instagram eccetera sono sempre i momenti in cui lui fa le cose più assurde con la voce quindi è quello che attira l'attenzione non si sta parlando delle canzoni non è che dicono oh hai visto che bel testo che ha scritto questa volta cioè si mette il momento in cui c'è il breakdown con il growl più basso che tu puoi immaginare che dura 20 minuti è quello che gira e tra l'altro oltretutto siccome è una band di fenomeni non è solo il cantante che ha delle capacità incredibili anche il batterista è disumano cioè fa delle cose che non sono umane e penso anche gli altri musicisti di sicuro non sono schiappe ma il batterista e il cantante sono disumani quindi primo punto la mucca viola distinguersi essere così tanto qualcosa quindi così estremi così veloci così economici così costosi insomma così tanto qualcosa che diventi straordinario cioè diventi qualcosa fuori dall'ordinario qualcosa che io non sono abituato a vedere quindi attira la mia attenzione lo condivido ne parlo eccetera e questo è il primo punto il secondo punto è collegato e cioè tu puoi anche essere molto veloce sul tuo strumento oppure avere delle capacità canore della madonna come in questo caso o del diavolo più che della madonna ma il problema è che se non lo sa nessuno siamo al punto di partenza e qua casca l'asino perché io lo so che in Italia ci sono una marea di musicisti bravissimi l'altro giorno ho scoperto un chitarrista che fa delle robe della madonna incredibili eppure non è così conosciuto non basta quello non basta essere bravi a parte che poi nel caso del chitarrista comunque non vale perché ce ne sono comunque tantissimi di chitarristi bravissimi quindi saper suonare veloce purtroppo non basta più nel caso del batterista del cantante dell'Orna Shore abbiamo una tecnica che è sopra la media cioè molto sopra la media quello che attira l'attenzione sono dei mostri comunque non basta avere quella capacità la devi anche far conoscere e infatti quello che hanno fatto i Lorna Shore poi non so se è stata una strategia loro o se si è sviluppato da solo grazie alla mucca viola ma in ogni caso là fuori è pieno di reaction di creator che reagiscono appunto a questi videoclip dei Lorna Shore e quindi la cosa si diffonde sia perché il contenuto delle reaction di solito è virale di per sé e sia perché appunto se tutti ne parlano a un certo punto lo scopri anche tu e infatti anch'io ho scoperto questa band così vedendo degli youtuber che dicevano oh mio dio cos'è questo è poi lo vedo anch'io dico wow cioè ha tirato anche la mia di attenzione e poi ho scoperto la band e oltre a questo il cantante ha anche un suo canale youtube e spesso fa o cover o diciamo ti canta la sua canzone e ti fa vedere come fa quindi essendo anche lui ovviamente consapevole di questa mucca viola che ha in gola ci gioca e te la mostra in tutti i modi possibili quindi primo punto avere una caratteristica fuori dal comune secondo punto farla conoscere però questa caratteristica grazie a contenuti tuoi e di altri creator quindi dicevo prima non so se è stata una scelta loro consapevole o se è successo per caso di certo i contenuti sui loro canali sono una scelta consapevole quella delle reaction non lo so ma in ogni caso se lo hanno fatto loro geni se non l'hanno fatto loro in ogni caso loro hanno la mucca viola che quindi per natura è virale è un qualcosa che la gente non può fare a meno di parlare poi nel bene e nel male cioè perché alcuni diranno che è schifo alcuni prenderanno in giro ma non importa l'importante è che hai l'attenzione nella gente anche perché tu cerchi il tuo pubblico non è che cerchi di piacere alla tua nonna di 60 anni quindi questo è importante e poi infine il terzo punto che non è tanto un qualcosa che gli ha permesso di farsi conoscere perché ciò che gli ha permesso di farsi conoscere sono quei due punti di cui abbiamo già parlato è più che altro una scelta intelligente che volevo farti notare e cioè che il nostro amico cantante dei Lorna Shore ha anche un videocorso perché a un certo punto si è alleato con una ragazza che aveva fatto una reaction al suo videoclip che è una cantante lirica mi sembra si sono alleati e hanno fatto un videocorso insieme sul canto sul canto estremo insomma su come fare il growl eccetera quindi anche qui scelta intelligente del perché devo fare i soldi solo con le date o solo con il merch quando ho una capacità e la posso insegnare agli altri quindi siccome in America evidentemente la situazione non è come in Italia che se fai un videocorso sei uno stronzo perché ah mi vuole vendere il videocorso mio Dio vuole insegnarmi delle cose vuole i miei soldi in cambio no truffatore all'estero che grazie a Dio non c'è questa mentalità tutta italiana puoi fare un videocorso e la gente non ti insulta ma anzi ti ringrazia perché stai condividendo le tue conoscenze in Italia abbiamo questo problema con i soldi non si capisce perché e quindi ti insultano cioè immagina che ne so i lacuna coil che fanno un videocorso cioè li insulterebbero senza alcun motivo ma li insulterebbero quindi lui ha avuto l'intelligenza di diversificare così se arriva una seconda pandemia speriamo di no hai modo di guadagnare anche stando a casa non è che vincoli tutti i tuoi guadagni dal fatto di fare i live perché come direbbe il musicista medio eh ma l'importante è suonare eh ma dobbiamo fare i live esistono altre cose nel mondo oltre i live e lui lo sa e ha fatto questa cosa qui poi non so probabilmente avrà anche altre ulteriori forme di monetizzazione tra cui il canale youtube ad esempio perché come dicevo lui fa contenuti non è che fa solo l'artista anche questa cosa tipica del musicista italiano che ah no io devo fare solo l'artista eh io sono chitarrista quindi vivo con la chitarra addosso non chiedetemi di parlare di fare contenuti eh di fare corsi non chiedetemi di fare niente io devo suonare basta puoi accendermi il forno no io devo suonare basta mi dispiace ma come è possibile no io devo suonare basta quindi eh in questo caso lui essendo un musicista moderno che sa di vivere nel 2024 ha fatto tante cose ha sfruttato diciamo le tante opportunità di vivere nel 2024 senza prendersi troppo sul serio e senza fare quello che se la tira che appunto secondo me è un po' la cosa da sbloccare mentalmente il non prendersi sul serio e tra l'altro fanno un genere appunto che è molto cattivo quindi è molto diffuso il prendersi sul serio cioè ma tu te lo immagini uno in Italia che fa death metal e si mette a usare i social come li usa lui quindi in modo simpatico facendo i contenuti facendo un videocorso cioè in Italia sarebbe fantascienza eppure lui da una parte sul palco è satana incarnato dall'altra rilascia interviste fa i suoi podcast le sue cover in modo simpatico come una persona normale perché così è normale il problema è che in Italia abbiamo un sacco di blocchi mentale quindi riassumendo cosa hanno fatto i Lorna Shore per essere famosi apro parentesi perché so già che arriverà questo commento eh ma loro sono bravissimi oltre ad essere bravissimi che lo diamo per scontato altrimenti cambi lavoro per farsi conoscere nonostante il genere così di nicchia hanno innanzitutto sviluppato delle capacità disumane che in questo caso sono la loro mucca viola in altri casi poteva essere l'estetica poteva essere il tipo di sound nel loro caso ciò che li rende mucca viola quindi straordinari diverso da tutto quello che c'è là fuori una cosa talmente strana che tu li guardi dici eh wow aspetta che lo dico ai miei amici nel loro caso è stata la capacità tecnica e la versatilità del cantante e le capacità altrettanto disumane del batterista ma soprattutto quelle del cantante che diventa diciamo quasi fenomeno da baraccone nel senso ne parli per forza perché fa delle robe assurde assurde poi questa capacità sono stati bravi a farla conoscere un po' sui loro canali attraverso cover play through e quello che è un po' attraverso le reaction di altri creator che hanno diffuso il questa cosa e tra l'altro tieni presente che le reaction hanno il grande vantaggio del non sembrare pubblicità perché non sei tu che dici oh ascoltate la mia band ascoltate la mia band ma è qualcun altro che te la consiglia quindi molto intelligente e infine terza cosa non per diventare famosi ma per fare dei soldi il cantante ha messo a frutto quelle che sono le sue capacità quindi ha creato anche un videocorso in cui condivide quello che sa e aggiungiamo appunto come bonus un uso sapiente ma più che altro moderno dei social senza prendersi sul serio senza tirarsela senza fare quello del io devo solo suonare e fare foto con le corna perché altrimenti non sono abbastanza metal e quindi ovviamente crescono se usano i social quindi questa è a mio parere la mia analisi diciamo del successo dei learn ashore se volete dire la vostra o avete domande scrivetemi pure nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale perché altrimenti ti perdi i prossimi video perché prima o poi youtube smetterà di consigliarti questi video anche perché il canale è ancora piccolino e ti ricordo il videocorso gratuito in descrizione se vuoi cominciare a masticare un pochino di questi argomenti detto questo io ti do appuntamento domani mattina sempre alle 9 sempre qui per il nuovo episodio ciao guerrieri grazie a tutti